Sull'Unione Civile questo governo ha ancora una volta dimostrato di essere contro la volontà degli italiani. Gli italiani stanno chiedendo al governo Renzi e alla maggioranza di rispettare quella che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che parla di famiglia naturale, che parla di rapporto tra uomo e una donna, che parla di impossibilità da parte di due persone dello stesso sesso di poter adottare dei figli. Come è successo in Senato, dove abbiamo fatto una grandissima battaglia anche alla Camera, alla Lega, ha dimostrato da che parte sta, che parte di società vuole. E ancora, come è successo al Senato, il Presidente del Consiglio Renzi e la sua maggioranza hanno deciso di mettere la fiducia, impedendo di fatto ai rappresentanti degli italiani, quindi ai parlamentari, di poter votare sul merito. Noi siamo schierati, l'abbiamo detto sin dall'inizio, siamo schierati dalla parte giusta, siamo schierati dalla parte delle famiglie, delle famiglie quelle vere, della famiglia naturale, della famiglia prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Renzi è schierato non si sa per che cosa, non si sa per chi. Ancora una volta, la critica a questo Presidente del Consiglio è quello di voler stravolgere la società.